Io mi chiamo Ora Keremetti, ho 18 anni e abito a Buostradizio con i miei genitori in Italia e studio economia aziendale. Wow, è davvero bello! Wow, è davvero bello! Soprattutto in giro, che le persone che non conosco mi fermano e la prima cosa che mi chiedono non è il nome, ma quanto sei alta. Quanto sei alta? Sono alta un metro? Quasi un metro dopo. Veramente! Perché sono effettivamente molto alta. Ho visto usare molti gesti in Italia. Oh, è vero! Io ho sempre scoperto di tutti i pop, ho variato anche i miei genitori in Italia. Oh, devi andare! No, ma come? Sì, però... Con la testa, con le mani, con tutto. È una mia particolarità. Non è più iniziata a raccettare il pavimento. Ciao, Fede! Ciao! Sì, sì, tutto bene. Allora, lei si chiama Francesca, ha 18 anni. È nata un po' di mesi dopo di me, quindi è più piccola. Però stesso anno ha un carattere bellissimo, una ragazza estroversa, simpatica. Lei si chiama Francesca, è una ragazza estroversa, molto simpatica. Non, come si chiama due? Se chiama due? Se chiama due? Se chiama due? Se chiama due? Non mi chiamano due? Io che mi chiamo Turconi, mi chiamano Fratu e a lei Fralu. Perché Fralu Aldi, Fralu, Fratu, Fratu. È un aneddoto, la storia del nostro nome. I nostri fratelli sono sempre stati amici fin da piccoli. Mio fratello, essendo molto legato a suo fratello, ha deciso di darmi lo stesso nome. E quindi siamo, diciamo, legate da sempre anche per questo. 진짜 그냥, aia 태어날 때부터 뭔가... 운명의 끈으로... 이어져 있는... 친구들이네. E veramente. Però siamo sempre legate. Sì. Purely di matto, abitura, abitura. E'buserno, abitura. E'buserno già, abitura. Certithi. A billo. e questo è proprio l'Hanggungo Oh, questo è un terremoto Oh, c'è un terremoto Buongiorno Il latte è buono Ma devo dire, sono stata nella quinta torre più alta del mondo Questo è il mio cibo preferito in assoluto Dovete assaggiare Sono gnocchi, o di riso, di grano saraceno Gnocchi? Non sono penne di carne Non mi dico di che cosa è composto C'è di tutto dentro, però è buonissimo È buonissimo È buonissimo È buonissimo E se avesse la stessa che non so C'è un po' di rispare 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 Il nostro studio di 1 milioni Il nostro studio è il nostro studio Non si può fare un po' di rispare Non, non, non Se tu vieni con me, io ci vado Andiamo, andiamo Anche tu devi ballare Si, dai, ballare C'è un po' di rispare Oh, si è un po' di rispare Oh, si è un po' di rispare Oh, si è un po' di rispare Non c'è un po' di rispare Perché è troppo bello Sembra di storie non sono Non dormiamo Un po' di rispare Non si è un po' di rispare E' un po' di rispare E' un po' di rispare E' un po' di rispare Sì, è il palazzo reale Lì ci sono anche i vestiti tradizionali E l'hambong si chiamano Cosa è l'hambong? Se tu ti vesti secondo la tradizione Non paghi l'entrata Quindi per il palazzo indossando un? Hambock È brillante colorato Puoi sentirti come se fossi un po' di rispare Un po' di rispare Vabbè, ci posso fare un pensierino Ci sono tutte quante le ragazze Tutte quante le vestite bellissime Con le capellietture tutte quante bianche Bellissime Tipo bamboline Comunque ho sempre ascoltato il K-pop Ho vari album che i miei amici mi hanno regalato O che i miei genitori mi hanno comprato E mi sono piaciute i film da subito Io li adoro Sono pazzesche Mi intrattegono un botto Se lo mangi con il kim chi? Il kim chi? Il kim chi Cos'è il kim chi? E' tipo delle verdure speziate Che loro mangiano come contorno Lo mettono anche dentro Cosa è un K-drama? Che è il pop e K-drama Sono gli attori coreani che fanno i drama E questo è uno dei drama Che loro hanno fatto Mi piace un botto Ci stai Bello Bellissimo Bellissimo Guardate Vediamo l'ora Questa cosa è bellissima Io me la sogno stanotte Andiamo Spacchiamo 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 tutto in Korea Perchè Di ora Allora Ahahah Dixi Ani Dimitri È un po' Tu cosa hai Melbourne Non è una realtà Si sa presenza Ho 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 Io sono i dari. Io ho il korea. Io sono i dari in韓國. Io sono i dari. Io sono sentente. Noi sono i giorni, ma sempre la stessa. ma il corso del corso Iitalia, ma il corso i tessi attraverso. E in Italia, in cui c'è la cosa che per lo andiamo? C'è qualcosa che ci siamo più interessanti? Buongiorno a chiunque. Buongiorno? Buongiorno, buongiorno! è una cosa più importante è una cosa molto importante e un po' più grande mi sono andato in Milano quando vi ho visto è molto piccolo e un po' più piccolo i ragazzi hanno un po' più grande sono veramente piccolo ognarico sulle in un po' più grande in Paris è un po' più piccolo e anche un po' più grande Tra un lostavermi. Molto di Giorgio, non si ti puoi. Sì, sono qui tutte le scimmie delle mie pizze. Ci sono senti davanti app Clemente. E' sempre sul cuore di oggi. CMPOI DAGIO. Ma io mi sono pronta. Sono un po' di un po' di un po'. La mia vitaять non ci sono? Sì, non ci sono tutti i nostri amici. Ci sono i nostri amici, ci sono i nostri amici. Allora, questa è la carà oque, ci siamo. La carà oque non fino alle 4 di mattina, ma fino alle 10 di sera possiamo farla. Noi, non è anche bezzato. Noi, non è anche bezzato. Noi, 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 noi. Noi, noi, noi. Noi, noi, noi. Noi, 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 noi. Noi, noi, noi non lo faccio. Noi, noi, noi. Noi, non è vero. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, noi, noi. Noi, non è vero. Noi, non ci sono. Noi, non ci sono stati prima di fare. Un euro d'età, e poi, noi prima di fare. Ho. 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 Sofini che ho chassato. Alla circa 2,500 euro. Alla, ciò. Questa, quella carta dove si è prepagata di 2.500 euro, facciamo il gestisce, ok? Sarebbe solo la responsabilità di avere la carta, quindi chi è che perde tutto? Sempre, io, noi. Ma io ho paura di perdere tutto e di proprio mandarci rubino a tutti. Ma io facciamo la prima, ma ragazzi, timbomba? Timbomba, le giù, polco, secco, secco. Siamo un po' di tipo, seppe. Siamo un po' di tipo. No, no. Siamo un po' di tipo. Siamo un po' di tipo. Siamo due sessi, due sessi! Due sessi? Non piace, non piace, non piace. Fia che si fai, non piace, non ci fai. Sì, non è stato un po' di tipo, poi non mi sono. Sì, è stato un po' di raggiungo, che è stato un po' di raggiungo. È molto difficile. È stato molto difficile. Giuseppe, adesso, mi ricordo di questo. Tutti i raggiungi tutti, perché ho un piccolo pompe. Ok, ok. Sì, è tutto. Andare... eccolo. Mi sono un po' rotto le palle. Sciogliete voi qualche volta. Se il palese vuole che uscissi tu, dai. Oh, adesso pan장한테 da tonunghi. Ah, allora non è niente. Vabbè, questa è la zona adesso. Tutte le bandiere vieni là. Che bello. Allora. No, allora. Ristoranti, usati. Wow. Tutti cos'è tempo? È un po' biazza. Non è nessuna. Allora, richiasci. Il tuo 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 lavoro, non è? Non è tutto diverso. Il passaggio è un po' di loro, non è io, girl? Non c'è un po' di loro. Non c'è un po' di loro. Ok, ma il ristoranti e poi andare. Non c'è un po' di loro. Cerco così? Tutti al porto? Si, si, si. Bello, bello. C'è un po' di loro. Cosa? Perché? Perché? Cosa? 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 sono tutti! Anche tutti, va! Guarda! Ah, si ha una da due tre fai? Certo? Certo, c'è... Certo, c'è? Sì, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Non, non ho. Non ho. Non ho, 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 ho. Ma tutti, sono così. Certo, c'è? Cosa senti in questo momento? Eh oddio, oltre la felicità devo dire che sono molto teso, sono parecchio emozionato perché non è una cosa da poco, poi la prima volta fuori dall'Europa, quindi devo stare molto attento, devo portare, devo ricordarmi tutto, devo mettere tutto in valigia, però sarà un'esperienza che mi insegnerà per tutta la vita. Deve 대화를 잘한다. Allora, io ti ho fatto che mi insegna, non ci sono più, ma cosa fai? Noi, cosa fai? Sì, cosa fai? Noi, cosa fai? Sto! Ma c'è, cosa fai? Ma cosa fai? Si, cosa fai? Sì, sempre di risponderci, non d'acquillo! Questo è un po' di rastron, non d'acquillo. Quindi, allora, K 자녀, ok? L'acquillo, ok? K 자녀! L'acquillo! L'acquillo, ok? L'acquillo! Non d'acquillo, questo è un po' Allora, come si vede, mi piace. Molto, molto, sono molto contento. Divertiti, mi raccomando, impegnati come hai sempre fatto e sempre farai. Divertiti e saranno cose bellissime sicuramente. Conoscere altre usanze, il suo modo di fare, il suo stile di vita. Magari non cerca altri diversi. Mi raccomando, porta anche qualcosa. Esatto, porta qualcosa. Me ne posso venire con te? No, quello di no, ma lo sarò io. Ecco, super. Facciamo un applauso. All'aggieria. DJ, io ti molto ne senti molto. No, mi sono più. Mi guarda molto? Il soggetto era un pozzolino. Un ruolo, il soggetto è un pozzolino... Per quanto hanno? È stato successo. Sì, 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 sì. Ah oh! Ho sicuro! Quanto colore che la voglia ti sentì? Sch secreste vi? Magdi terci? Per me sinergli alla seconda della bianca. Tu nel chi fosse la prima prima? Tu ti sono la prima prima? Sì! Sì, sì! Sì, io mi sono sempre alla prima prima prima? Noi quasi all'INA inรア? Sì... Beh... Quanto da prima 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 prima? come chandì che sei ciascino in noi è solo Mi sono stato inizio a un'ottombello! Sì, inizio a casa! Sono stato inizio a 5 anni, quando erano inizio a l'Urgen. Da 6 anni, sono inizio a la scuola. E dove是? Mi ricordo è stato il rinzegmarkmurban e il rinzegmarkmurban. E il rinzegmarkmurban e il rinzegmarkmurban. Ma non ho anche il mio stesso tempo. Ma non è anche un po' di me. C'è un po' di cui inizio è anche un po' di cui, in cui è stato il rinzegmarkmurban. C'è un incontro? C'è un incontro di ok! Chiazza, i contro! Non sono quella nuova! C'è un incontro di occhi di studenti? I ricordi che io ho permanecio avuto l'onima! Se stai fanno un anno prima Non sono in cui un anno, ho hanno fatto che 대 Sottotitoli stanno i suoi biondette. hadимся! Ma... sant'aggολante JWST. Ah, no, no, no! No, no! Non sono возможissime che non il fatto poco a bale, ma adesso a tutti i miei treccionato, e in realtà le miei voi tutti lo vanno. Lui è quello che ci sono a partire! Ma e lei è vero! Però sono anch'io! Non mi intero, Paola? Ancora togà la competizione! Quindi non, stessa fino a lui. Ma sono alle i nostri, andò a partire la vostra sono in un po' bene. Prima cosa stiamo presto. che ci sono i campionati dal tempo. Ci sono che ci sono stata fatta, non importa. Non ci sono proprio un po' di malo, non si chiede. Quindi, come un po' di bambino. Ma! Guardate! Sì, si è riuscita! Sì, è inpson. Cosmo. La sera sò di più la tua, più buona, vento. Isto l'interno, o metodo, si è solo. Inche国 del Comando. Cosa, qua! Cosa, qua! Ma non sono più forte. Kimferi més? È un gioco al posto? Grazie a tutti.